Un saluto a tutti cari amici e benvenuti sul mio canale. Per prima cosa fatemi salutare e ringraziare Gianluca, nuovo abbonato alle mie video lezioni. Al torneo dei candidati siamo arrivati al decimo turno e stiamo per guardare insieme la partita tra il giovane polacco Duda e l'americano Fabiano Caruana. Non dimenticate di like al video, partiamo! Duda di bianco apre con E4, Caruana risponde con E5. Cavallo in F3, cavallo in C6 e arriva alfiere in C4, quindi una partita italiana. Alfiere in C5, linea principale, C3 che fa le solite due cose buone, serve a spingere al centro, libera anche questa casa C2 per il ritiro dell'alfiere se necessario. Cavallo in F6 sviluppa ed attacca il pedone centrale che viene difeso giocando D3. D6 libera il cavallo dalla protezione del pedone e siamo nella posizione iniziale classica del gioco piano. Allora, arrocco corto per il bianco, A6, sta per giocare B5, libera questa casa A7 per l'alfiere e allora Duda gioca A4, alfiere in A7. Torre in E1, proteggendo il pedone centrale a tempo debito si può giocare D4. Se il cavallo deve essere trasportato sul lato di Re, si è liberata anche questa importante casa F1. Allora, arrocco corto anche per il nero, H3. E' mossa più giocata, è fare strano a controllare questa casa G4. C'è da dire che vedete quando il bianco ha giocato H3, quando il nero ha già arrocco corto. Ora, seppure H6 sia la mossa più giocata anche per il nero, ci sono altre due idee particolarmente interessanti, che sono l'immediato trasporto del cavallo sul lato di Re, oppure come ha giocato Caruana, alfiere in E6. Allora, alfiere per alfiere, il pedone F ricattura, arriva a B4. Cavallo in H5, attenzione, anche se il cavallo è sotto l'attacco al raggio X della donna, questo cavallo del bianco non si può spostare perché è inchiodato sulla casa F2. Vedete, alfiere e torre puntano proprio a questa F2. E allora il nero in questa posizione ha quasi equalizzato e, pensate, nella pratica addirittura ai risultati migliori del bianco. Alfiere in E3, mossa più giocata dal bianco, invece arriva la novità di Duda, cavallo in B che va in D2. E la partita alla mossa 12 diventa originale. Cavallo che completa la sua manovra per arrivare in F4, cavallo in F1. E ora Caruana continua con le idee della variante appena giocata, che era quello di portare la donna in F6. Purtroppo, non che sia un errore gravissimo, ma invece di donna in F6, stavolta conveniva giocare donna in E8 e donna G6. Leggermente migliore. Allora, alfiere per cavallo, la donna ricattura, donna in B3. Cosa fare in questa posizione? E probabilmente ritornare indietro con la donna, e per questo motivo vedete anche donna in G6 andava a fare tante cose buone, anche a proteggere il pedone centrale. Ora, ritornare indietro con la donna sembra sicuramente plausibile. Leggermente meno precisa, torre in F6. Naturalmente il cavallo è sempre inchiodato sulla casa F2, arriva B5. Ora, attenzione, perché catturare per il nero sarebbe un grave errore, andiamo a vedere che succede. Dopo A per B5, il pedone A ricattura, e ricattura con tempo. Quando il cavallo si sposta, torre in A3, raddoppio delle torri, vedete, con le torri del nero disconnesse, e qui la posizione è già persa. Allora, dopo B5, cavallo in A5 attacca la donna. Donna in A2. Ora, il nero non sta per niente male, ma si dovrebbe forse consolidare un po'. E come si fa a consolidare? Donna in H6 è sicuramente buona, libera la torre che può tornare in F7, quindi a consolidare il controllo della settima traversa. Si può spostare il re in H8 in modo tale da rendere questa diagonale meno debole. C'è anche l'idea del raddoppio delle torri, fatto tutto questo, sulla colonna F. E invece Caruana spinge in G5. Certo, un attacco pericoloso, sicuramente, ma probabilmente un po' affrettato. Allora il cavallo torna indietro in H2, quindi non si può spingere in G4. Ci sono due modi per continuare a spingere in G4, sono H5 e torre in G6. Entrambi buoni, Caruana sceglie torre in G6. Come si fa a rispondere ad un attacco su un fianco? Aprendo il centro, soprattutto con un re così scoperto. Allora, Duda gioca a D4, arriva a H5, G3 attacca la donna, donna in F6. Torre in H1, che cosa minaccia Duda? Minaccia di cambiare i pedoni, e naturalmente qui bisogna riprendere di pedone perché c'è il cavallo, e di entrare con la torre in settima. Allora per questo motivo Caruana gioca torre in G7, re in H1. Il pedone è stato schiodato, anche se per ora la diagonale è chiusa. Allora, torre in F8, D per E5 attacca la donna, il pedone D ricattura, arriva a H4. Come mai Caruana non giocherà a G4? Andiamolo a vedere subito. G4 sembra l'idea più sensibile. Il cavallo spostandosi in G5 non permette al nero di catturare il pedone. Perché guardate che succede. Non si può catturare il pedone. Perché qui mica gli cambia le donne, ma la donna cattura in E6 con scacco, re in H8, donna in H6 con scacco, e non si può mettere la torre perché c'è il cavallo, re in G8, torre in F1, e qui che si fa? Se donna in B6, è a tentare il cambio donne, torre per torre, il re ricattura, cavallo in E6 con scacco, vince la torre, e poi naturalmente darà anche il matto. E in questa posizione donna in C5 è l'idea migliore, ma ritorna donna in E6 con scacco, re in H8, torre in F6, e allora il nero è costretto a cambiare le torri, la donna ricattura, micidiale lo scacco di torre da D8, c'è già sulla scacchiera il matto forzato. Quindi vedete come si è scoperto Caruana? Allora H4 cosa fa? G per H4, G per H4 si è aperta la colonna G, che per ora il nero controlla con la torre, ma che non può controllare anche di donna, è perché il bianco gli piazza le torri, e quindi la donna la fa sloggiare. Allora cosa si potrebbe pensare di giocare? Si potrebbe pensare di giocare, per contento c'è anche il re sulla colonna G, quindi si potrebbe pensare di giocare re in H8, e invece, purtroppo in questa posizione un po' pencolante, altra buona idea alfiere in C5. E comunque, rimane comunque una posizione un po' disastrosa, perché cosa si vuole fare con questo alfiere? Si vuole giocare alfiere in D6, a cementificare il centro, e quindi a liberare anche la donna, quindi un alfiere che diventa una sorta di pedone, e un cavallo sul bordo che non riesce a uscirne. Quindi, situazione terrificante. Allora, torre in G1, alfiere in D6. Ma c'è un altro elemento debole, guardate, è il pedone in D6, scusate, in E6, e allora giustamente Duda gioca il cavallo in G5, guardate brutto, che bisogna fare. Se viene protetto con la torre, e allora il bianco gli raddoppia le torri sulla colonna G, e allora sceglie probabilmente l'idea più attiva caruana re in H8. Duda si inizia a complicare la vita, perché gioca donna in E2, che invece si protegge facilmente, e questo è solo l'inizio di una serie di manovre errate. Ritorniamo indietro, che doveva fare Duda? Duda doveva catturare in E6, e qui che si fa? Torre per torre in G1 con scacco, la torre ricattura, e se la donna cattura in F2, ora, naturalmente, cambiare le donne riporta il nero in partita, ma non c'è problema, perché basta giocare donna in D5, la torre è rimasta sotto attacco, donna in F7, perché qui, in questa posizione purtroppo, se torre in E8, guardate che succede, cavallo in G5, per il computer è più 9, perché ci sono un'infinità di minacce, tra le quali donna in D1, che porta al matto, oppure la cattura del pedone, che porta al pedone passato, perché c'è il cavallo, attaccato dopo, sospeso e attaccato al raggio X. E allora, dopo donna in D5, bisognerà giocare donna in E7, ma torre in F1, protetta dal cavallo, vince subito, donna in G8, torre per torre, l'alfiere ricattura, il pedone cattura, e gli è rimasto il cavallo sotto attacco, se il pedone cattura, prima la cattura al centro con scacco, alfiere in G7, cambio anche dei pezzi leggeri, e poi il bianco si ritrova con un pedone, un pezzo di vantaggio. Quindi bisognava ormai che la manovra era stata fatta, e l'attacco sul pedone debole era riuscito, bisognava andarlo a catturare, e invece arriva donna in E2, e allora Caruana difende con precisione, donna in G6, torre in D3 per il raddoppio delle torri, A per B5. Giustamente Duda raddoppia le torri, e non si preoccupa di ricatturare subito, perché adesso la cattura naturalmente perde la partita di botto, perché arriva il cavallo, e quindi il cavallo si sposta, e quindi si vince sicuramente la torre, per non parlare poi della continuazione dell'attacco. E allora che cosa fa Caruana? Giustamente toglie la donna dalla scoperta delle torri. Allora, il bianco riprende col pedone in B5, torre in F6 a difendere il pedone centrale, donna in F1. Guardate come si incarta Duda, ora certo, l'idea è quella di giocare il salto del cavallo in F7, ma donna in F8, e probabilmente ancora più precisa donna in G8, e questo salto non c'è. Allora, donna in H3, di nuovo l'attacco al pedone centrale, addirittura spinge la donna sulla casa migliore, donna in G8, torre in G2, almeno a proteggere il pedone F2, cavallo in B7. Ora, non si capisce bene sinceramente se conveniva portarlo in C4 oppure in B7. Certo, C4 pare più attivo, ma posizione molto complicata, anche perché dopo non so cosa si poteva fare, ma comunque, cavallo in B7 giocato da Caruana, Duda trova l'unica buona continuazione a disposizione del bianco. Siamo al nostro quizzone, cosa giochereste al posto del giovane polacco? Mettete pure in pausa se volete, e da voi la parola. Ritorniamo subito a noi. Bella questa manovra, cavallo in H7, che non si può catturare, perché se no si perde la torre, e quindi, oppure si perde anche l'altra torre, allora, anche, oppure, stavolta è Caruana che triplica i pezzi pesanti sulla colonna G, torre per torre, la torre ricattura, e il cavallo torna indietro in G5. Il pedone, c'è sempre pressione su questo pedone centrale, però il pedone per adesso è protetto. Torre in F6, e qui arriva la bellissima mossa di Duda, F4. Il pedone non si può catturare, come mai? Perché se per F4 arriva ai 5, e guardate che succede, anche se il pedone è in presa, l'alfiere catturando diventa sospeso, allora il cavallo si sposta, attacca un pezzo sospeso, e la torre attacca la donna, quindi sicuramente vince un pezzo. E allora dopo F4, che bisogna fare? Gioca cavallo in C5 Caruana, ma glielo cambia lui, il pedone, e questo è una vera e propria forchetta di pedone, allora l'alfiere di Caruana è costretto a ricatturare, e di nuovo cavallo in G che va in F3, vince un pezzo per il pedone, quindi questo alfiere, il pezzo è sicuramente perso, però mossa 41, ha un'ora di tempo sull'orologio Caruana, prova il tutto per tutto. E allora il tutto per tutto è diventare il più attivi possibile, donna in A8, e il cavallo che cattura l'alfiere in E5, cavallo che cattura in E4, attenzione, guardate la donna dove è messa, se il cavallo dà lo scacco da F2, vince la partita, perché la torre non può catturare, diventa inchiodata, e allora l'unica mossa buona è cavallo in H che va in F3, che non renderà mai questa torre inchiodata, è protetto dalla donna, e quindi lo scacco non c'è più, lo scacco di cavallo, perché arriva lo scacco di donna da A1, re in H2, donna in C1, cerca lo scacco, attacca il pedone, cavallo in D3, non gli fa dare lo scacco, ma perde il pedone, donna che cattura in C3, si può proteggere il cavallo, andando a giocare l'altro cavallo in E5, invece arriva a torre in A2, guardate, lascia il cavallo in presa d'Uda, è sicuramente una buona idea, perché se la donna cattura il cavallo, non giocata da Caruana, torre in A8 con scacco, re in G7, donna in G2 con scacco, e guardate che succede, non si può interferire di torre, perché se si interferisce di torre, c'è il tatticismo, cavallo in E5, che si riprende la donna, e quindi il bianco rimane con la torre di vantaggio, e dopo donna in G2 con scacco, se il re si sposta e il nero prende matto, e allora bisogna cedere il pezzo, con cavallo in G5, donna che cattura con scacco, donna in G6, torre in C8, perché tanto la donna è ben coperta, donna per donna, il cavallo ricattura, e questo finale viene vinto semplicemente dal bianco. Allora dopo torre in A2, non ci casca Caruana, e gioca cavallo in F2, che attacca la donna. Vedete che il cavallo è sempre sotto attacco? Se si cattura di cavallo, e qui si cattura, si perde l'altro cavallo, giustamente Caruana preferisce ricatturare di torre, e scusatemi, Duda preferisce ricatturare di torre, Caruana si riprende il cavallo, catturando di donna in D3. Ora, vedete il re nell'angolo? Donna in G3, che cosa minaccia? Torre in G2, poi il matto, allora, donna in D6, va al cambio donne, e Duda il cambio donne lo accetta e come? Perché donna per donna, il pedone ricattura, re in G3, proteggendo la torre, ha schiodato il cavallo, perché attenzione che il cavallo era inchiodato sulla torre sospesa. E allora bisogna giocare questo finale, che comunque a gioco corretto è vinto per il bianco, torre in F5 attacca il pedone, torre in D2 ne attacca un altro, e ora che succede? Se si gioca D5, intanto il pedone non è più sotto attacco, basta giocare torre in E2, e allora torre per pedone, torre per pedone in D6, se il pedone avanza, lo scacco di torre, vince il pedone in H5, e attenzione che poi il pedone non avanza più, perché diventa inchiodato sulla torre, e allora giustamente Caruana mette in gioco il re, Duda cattura anche il pedone in E6, torre in B4, torre in B4 cerca di non far avanzare il re bianco, allora torre in E5 attacca il pedone, re in H6 lo protegge, torre in D5, si porta, intanto libera questa casa centrale per il cavallo, e si porta a distanza di sicurezza, torre in B1 cerca gli scatti da dietro, perché lo scacco da G4 non serve a niente, perché il pedone è protetto dal cavallo, bastava portare indietro il re in F2, cavallo in D4, si poteva tranquillamente anche andare a giocare re in F4, cavallo in D4, scacco da dietro, torre in G1 con scacco, re in F4, mossa 57, Caruana abbandona, perché veramente è un finale senza speranza, non serve neanche torre in G4 con scacco, perché dopo che il re si è spostato in E5, il pedone è intoccabile, perché c'è il tatticismo dell'attacco doppio del cavallo, e quindi pedone è intoccabile, oltretutto sta per arrivare lo scacco di torre, cade anche l'altro pedone, questa è una lenta tortura per il nero. Insomma, una brutta sconfitta per Caruana, che probabilmente per la fuga di fare punti anche col nero, ha affrettato troppo l'attacco, e Duda, giocando bene per quasi tutta la partita, l'ha punito. Vi lascio la classifica in descrizione sotto al video, spero che anche questa partita vi sia piaciuta, non dimenticate il like, non dimenticate di iscrivervi al canale, e noi naturalmente ci vediamo domani con un nuovo video. A presto! Grazie a tutti!